Nel 1957 in Francia, l'ultimo delinquente a essere ghigliottinato si converte a Cristo. Dopo la condanna a morte come il buon ladrone, Jacques Feche chiede perdono a Gesù. Ora è in corso la causa di beatificazione, di Paolo Risso. Un libro che è una perla preziosa. L'ha scritto Lemonier, Luce sul patibolo, lettere dal carcere di Jacques Feche. L'abbiamo letto quando uscì in Italia e non l'abbiamo più dimenticato. La misericordia di Dio non è buonismo né a condiscendenza al male, ma conversione a Dio che di un delinquente fa un mistico. Non è giacere nei vizi né legalizzarli, ma essere redenti dal crocifisso. Il 25 febbraio 1954, a Parigi, in Rue Vivienne, verso le 6 di sera, è stato aggredito a colpi di martello, un cambio a valute, Alexandre Silberstein. Perde sangue mentre il suo aggressore fugge con una cospicua somma di denaro. Il criminale Jacques Feche, rivoltella in pugno, si copre la fuga ferendo un passante. Il poliziotto Georges Vergne, cui è stato dato l'allarme, gli dà la caccia fino a Boulevard des Italiens. Il bandito, sul punto di essere preso, spara alla gente e lo uccide. Qualche ora dopo l'autore della rapina e dell'omicidio è catturato e assicurato al carcere. Ma chi è costui? Jacques Feche ha 24 anni, essendo nato a Parigi nel 1930. Figlio di un belga autoritario e insopportabile. Questo belga, che è direttore di banca, si occupa poco del figlio e presto si separa dalla moglie, lasciandole il giovanissimo Jacques a Saint-Germain-en-Laye. Cresce molto attaccato alla mamma, che però è una donna incapace di educarlo e di prepararlo alla vita. Non sa distinguere il bene dal male, desideroso di affetto e di sicurezza. Le scuole le frequenta in un collegio privato, senza combinare nulla. A vent'anni, in servizio militare, che non è proprio una buona educazione. Poi, subito, sposa Pieret, una ragazza di Saint-Germain, di origine ebrea. Presto nasce Veronique, ma Jacques abbandona la ditta del suocero dove lavorava. La moglie, la figlioletta, e se ne va dalla mamma, con il progetto di aprire una ditta in concorrenza al suocero. Ma presto si trova nei guai e decide di partire per la Polinesia. Ha assolutamente bisogno di soldi ed è disposto a tutto. La mattina del 26 febbraio 1954, Pieret apprende dai giornali che suo marito, Jacques Feche, era diventato un assassino e deve presentarsi in questura a essere interrogata su di lui. Nel carcere della Saint-É, a Parigi, il cappellano va a far visita al nuovo arrivato. I preti si interessavano subito di salvare un'anima. Oggi ognuno può essere lasciato alle sue scelte spontanee e istintive. Il detenuto Feche Jacques gli dichiara di essere un senza Dio e lo manda via. Il cappellano è un sacerdote cattolico e che crede a Gesù Redentore. Un giorno, dopo alcune settimane, il giovane lo vede e lo chiama. Padre, ho fatto un gran male. All'inizio lo cerca perché è l'unico con il quale si possa parlare. Il Don gli propone di scrivere un rapporto su se stesso e sulla sua tristissima vicenda. A consente. E lo fa con assoluta sincerità, spietato con se stesso, ma narra anche della sua famiglia di origine, di genitori separati che non hanno saputo amarlo né tantomeno guidarlo alla vita. Mio padre era ateo, all'estremo, e io mi sono nutrito dei suoi pensieri di senza Dio. Così, travolto da un sogno utopistico, si era trovato a compiere una rapina e un omicidio senza alcun sussulto di coscienza. Spera, anzi, è quasi certo che non sarebbe stato condannato a morte. Il cappellano lo ascolta senza stupirsi di nulla e gli porta libri scelti bene. Il Vangelo, le confessioni di Sant'Agostino, tra i più grandi convertiti della storia. La vita di Santa Teresa d'Avila e Storia di un'anima di Santa Teresa di Gesù Bambino, che ancora ragazza convertì, con la sua preghiera ardente, il criminale Pranzini, poche ore prima della ghigliottina. Jacques legge e medita. Presto la figura di Gesù lo avvince. Davanti a lui può solo mettersi e stare in ginocchio, ma non si sente umiliato. Ha dato sì o no il paradiso al brigante crocifisso al suo fianco, che lo invocava, Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Sì che l'ha dato. C'è un suo coetaneo, già compagno di collegio, che ora è diventato religioso e che appena sa della vicenda di Jacques, gli scrive e tiene con lui un carteggio cordiale e luminoso. Anime belle e sante, cui è stato segnalato dal cappellano, pregano e offrono per lui. In una parola, Gesù, il re divino, con la sua tattica, sempre vincente, ha posto l'assedio alla sua anima. Al fondo di se stesso comincia a sentire una voce che lo chiama per nome. Jacques, sei un delinquente, ma io, il tuo Dio, sono morto per te sulla croce. La sua esistenza in realtà, dalla sua nascita, aveva imboccato un tunnel oscuro, ma ora, in fondo, vede una luce. Vuole credere, affidarsi a Gesù, ma non può, è troppo ciò che gli chiede il Nazareno. Tiene un diario e scrive in risposta alle lettere che riceve da religioso e da altri buoni amici. Così racconta. Alla fine di un anno di detenzione mi ha percosso un intenso dolore dell'anima che mi ha fatto molto soffrire. Bruscamente, in poche ore, ho posseduto la fede, una certezza assoluta. Ho creduto e non capivo più come facevo prima a non credere. Gesù mi ha visitato e una grande gioia si è impossessata di me, soprattutto una grande pace. Tutto è diventato luce in pochi istanti. Era una gioia fortissima. All'amico religioso si apre senza riserve e gli narra la più bella storia d'amore che possa capitare nell'esistenza, anche oltre le sbarre di un carcere. Un'anima con il suo Dio. Si è Gesù che mi ha amato per primo quando nulla avevo fatto per meritare il suo amore. Gesù mi ha colmato di grazie e in te mi ha dato un fratello da amare. Ogni giorno rileggo le tue lettere e vi attingo luce e forza. Si rivolge alla moglie Pierette scrivendole in modo commovente per portarla alla fede e quando lei rifiuta non si arrende torna alla carica e per lei prega. Sei così infelice e sola Gesù ti doni la sua luce aprigli che lui bussa la tua porta. Ora tutto il suo impegno la sua unica preoccupazione è rendersi conforme a Gesù. La confessione frequente frequentissima per purificarsi per rafforzarsi nella grazia di Dio per prepararsi in modo sempre più degno alla comunione eucaristica con Gesù. Già che affamato letteralmente affamato del pane di vita e Gesù nella cella del carcere lo assimila a sé. Le lettere a padre Tommaso il religioso amico che intanto è diventato sacerdote sono come la storia della sua anima che viene via via redimendosi una mano possente la mano di Dio mi ha trasformato dov'è che cosa mi ha fatto è mano divina incomprensibile a solo occhi umani ma efficace trasforma il mio essere in lui la lotta contro il male in me spesso è tragica ma ormai sono creatura nuova innestata a Gesù Cristo la vera vite occorre che io abbatta adatti ricostruisca le mie strutture interiori non posso essere in pace il mio è tempo di lotta ma non mi fermo se mi fermo retrocedo devo crescere in Cristo intanto il processo va per le lunghe e Jacques si illude che possa essere condannato almeno solo per l'ergastolo ma il cambiamento di scena avviene il 3 aprile 1957 quando al processo crolla ogni illusione Fesh sarà condannato a morte a nulla serve la difesa dell'avvocato Sudacca non ci sono attenuanti che tengano sul suo collo scenderà la lama della ghigliottina può essere la disperazione invece ora comincia l'ultimo atto della sua offerta un'offerta sacrificale della sua piena configurazione a Gesù crocifisso nei mesi precedenti Jacques aveva riflettuto quindi pregato a lungo e sempre più intensamente nella sua cella non tanto per evitare la condanna a morte ma per rendersi fedele a Gesù per riparare il male compiuto per diventare un altro ora che sa quale sarà il suo destino ormai prossimo passa tante ore della sua detenzione in ginocchio nella sua cella solo con Dio a pregare e offrire per sé e per tutte le anime deciso ad entrare subito in paradiso dopo la sua morte come il buon ladrone pentito sulla croce accanto a Gesù crocifisso sente che la giustizia umana l'opinione pubblica i più lo odiano ma lui scrive non resta che una cosa da fare ignorare tutto questo odio poi cercare in fondo Gesù colui che instancabilmente attende l'anima percossa per darle il tesoro che il mondo rifiuta lui stesso ecco io ritrovo il Cristo che qui in questa cella anticamera della morte vicina mi dice e io non ho forse sopportato i chiodi per te Jacques attende ancora l'esito della Cassazione che però conferma la condanna a morte l'avvocato chiede la grazia al capo dello Stato ma Jacques gli scrive io non sarò graziato ma è meglio così perché se lo fossi non so se vivendo potrò rimanere sulle vette dove Gesù mi ha condotto è meglio che io muoia e che io vada da lui da mesi ha regolarizzato il matrimonio con Pieret che aveva sposata a vent'anni solo civilmente e gli resta un sogno che ella ritrovi la fede che educhi Veronique la loro piccina all'amore di Gesù in primo piano nella sua offerta ci sono loro due le creature che più ama e che assisterà dal paradiso ora so che tutto è grazia e che non verso la morte io vado ma verso la vita non c'è pace all'infuori di Gesù non c'è salvezza senza di lui ogni volta che ricevo l'ostia santa ho il cuore che trabocca d'amore e un inno di grazie sale dalle mie labbra offrirò la mia morte come un sacrificio per coloro che amo e per coloro che mi odiano negli ultimi mesi della vita Jacques scopre approfondisce l'amore e la presenza della Madonna accanto a lui voglio tenere la santa vergine per mano e non più lasciarla finché mi conduca al figlio suo io vivo delle ore meravigliose la santa vergine mi protegge mi indica la via e quel Gesù e quel che Gesù vuole da me sì vivo delle ore meravigliose come dolce Gesù con un peccatore convertito come me non è più un assassino Jacques neppure un buon cristiano è diventato un piccolo mistico Gesù scrive ancora mi colma di doni Gesù fa tutto e io mi rimetto a lui anche se mi fa un po' soffrire attendo che l'opera sia compiuta alla fine di settembre l'avvocato lo avverte che l'ultima ora si avvicina Jacques scrive all'avvocato alla mamma all'amico sacerdote il suo addio il suo arrivederci ancora qualche ora di lotta prima di vedere l'amore attendo l'amore attendo di essere inebriato da torrenti di gioia e di cantare eterne lodi a Cristo risorto notte tra il 30 settembre e il primo ottobre 1957 vigilia della sua esecuzione fra cinque ore vedrò Gesù recita il rosario e le preci dei moribondi per se stesso il cuore gli si riempie di pace perché Gesù mi ha promesso di portarmi subito in paradiso un'ultima offerta il mio sangue si accetto a Dio come un sacrificio totale ha vegliato e pregato tutta la notte recitando un rosario dopo l'altro prima i misteri dolorosi quindi i misteri gloriosi cui sta per andare incontro riceve dal cappellano l'ultima assoluzione riceve Gesù eucaristico come viatico per la vita eterna quando vengono a prelevarlo dalla cella è ancora buio avanza verso il patibolo con passo fermo pallido ma sereno in volto quasi sorridente in una pace incredibile prima di inginocchiarsi sul ceppo e di mettervi la testa si volge al cappellano padre padre mio il crocifisso il crocifisso e lo bacia intensamente alle 5 e 30 la testa di Jacques Fache cade sotto la lama ha solo 27 anni non è stato giustiziato un criminale ma un piccolo santo che cos'è la testa di Chia doveva che cos'è che cos'è la testa di Chia ma un piccolo santo